Scegliere il nome per i personaggi era una cosa che mi piaceva molto. Anche i nomi dei gruppi per la squadra speciale Genio decisi di ispirarmi a Latte e Latticini e in seguito assegnai i nomi. Oppure il figlio di Bulma, nonostante fosse un personaggio affascinante, decisi di chiamarlo Trunks. Mi piaceva riflettere a lungo elaborando le idee fondamentali alla base della storia, come per esempio la struttura dell'equipaggiamento dei Saiya, ma comunque se quello che avevo in mente alla fine non trovava spazio nel racconto, la storia non ne risentiva. Mi piaceva molto anche tirare fuori elementi del passato che non c'entravano nulla, ormai dimenticati dai lettori. Come per esempio i ciborg facenti parte dell'esercito Regribon. I lettori avranno pensato a chissà quale significato recondito e invece non c'era nessuna ragione per ritirarli fuori. Se le idee prendono forma lentamente in seguito è facile realizzarle. Quando si stabilisce tutto all'inizio con troppa precisione è difficile correggere eventuali deviazioni della storia. Per esempio l'utilizzo del bastone magico di Goku ci ho pensato in maniera davvero superficiale, ma tutti si sono meravigliati e hanno creduto che fosse una grande trovata. Io volevo solo sbrigarmi a finire e andare a costruire i miei modellini scusate.